Oggi siamo a Casale Monferrato sull'imbarcadero e qui con me c'è un funzionario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Buongiorno, sono Stefano Uvillo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Sono qui per il progetto di diffusione dei campi scuola, il progetto campi scuola che va avanti da parecchi anni. Questo è il mio primo campo di quest'anno, non ero mai stato in Piemonte e siamo qui naturalmente per passare parte della giornata con i ragazzi e assistere le associazioni di volontariato che si impegnano in questo tipo di attività ormai da diversi anni con tantissima esperienza. A che progetti state lavorando? Allora, due parole sul progetto dei campi scuola. Questo è un progetto di cui io faccio parte ormai da diversi anni, ne lo faccio da 4-5 anni. Come ho già detto, è la prima volta che vengo in Piemonte. È un progetto che a me piace da morire perché comunque si sta con i ragazzi e secondo me la cosa più importante è cercare di far capire subito ai ragazzi certe dinamiche, certi possibili rischi che abbiamo nel nostro territorio. a conoscere l'ambiente, l'ambiente che li circonda, il proprio ambiente di vita. Qui siamo in una location che ha avuto negli anni 90, nel 94, nel 2000 parecchi problemi legati al rischio idraulico. Parlo di rischio idraulico perché comunque qui siamo sul tratto del Po, sul fiume Po. E appunto in quegli anni ci sono stati, a seguito di diversi giorni di pioggia, a seguito di diversi criticità anche sui bacini minori, ci sono stati comunque parecchi problemi legati a questo corso d'acqua. che naturalmente oggi sta in una giornata tranquillissima, però diciamo che a seguito di grosse precipitazioni o di rotture arginali o di crisi di bacini secondari può dar parecchi problemi. Quindi non dobbiamo guardare soltanto il lato buono della natura quando si sta tranquilli, ma dobbiamo essere pronti e preparati anche ad affrontare le emergenze, consapevoli del fatto che ci potrebbero essere anche delle problematiche legate a questo fiume. Io mi occupo di tutto il sistema di allertamento idrogeologico idraulico, quindi io comunque lavoro con frane e alluvioni. Non conosco bene il Piemonte perché comunque seguo dei progetti o seguo comunque principalmente altre regioni, però naturalmente avendo studiato questo conosco molto bene la situazione legata al Po e ai suoi affluenti. Sono qui con Matteo Robiano, funzionario di protezione civile della provincia di Alessandria. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui anche quest'anno e codiuvare le iniziative che ogni anno la Quintana Campus organizza sul territorio di Morano sul Po, i Casale e i comuni limitrofi. Un'esperienza per giovani ragazzi che in una settimana, quest'anno da lunedì 24 a domenica 30 giugno, hanno la possibilità di testare sul campo che cosa vuol dire fare protezione civile, dal montaggio di un campo a svolgere tutta una serie di attività, di ricerca e altre attività sul territorio, fino alla giornata di domenica. Un'esperienza formativa di grande crescimento per questi giovani che si spera possano essere per noi un domani le nuove leve di protezione civile. Ora siamo in barca e stiamo andando sull'isolotto dove i ragazzi stanno facendo la ricerca dispersi. Un disperso è già stato trovato e quindi ne resta solo un altro da cercare. I ragazzi sono muniti di radio e GPS per lavorare in sicurezza. Sono con Lucio e Carlo che stantina hanno fatto la ricerca dispersi. Com'è andata? Non abbiamo trovato il disperso, però bene, a parte che abbiamo trovato solo rovi. In questi rovi c'erano solo le more. Praticamente invece del manichino abbiamo trovato le more. Sono con Giacomo e Alberto e anche loro stamattina hanno fatto la ricerca dispersi. Com'è andata? Ma bene, abbiamo trovato il manichino che era un disperso. Ci avevano dato l'indizio che era vestito di nero, quindi era nero e l'abbiamo trovato sotto una pianta. Sì, è andata bene, a parte molti rovi ci siamo dovuti organizzare per passare appunto in questi rovi. Però almeno abbiamo trovato il manichino che è una soddisfazione. Al Quintana Campus, gli amici del Po di Casale Monferrato. Eccoci qua, ciao a tutti. Gli amici del Po anche oggi sono partecipi con il campus della Quintana, con i ragazzi di quest'estate. Siamo qui contenti di partecipare con loro sul nostro fiume dove ci hanno fatto una richiesta. Noi subito siamo rimasti contenti di partecipare e dargli una mano per costruire questa bella esperienza per i ragazzi che hanno nel campus. Quindi va bene così. Ringrazio tutti i ragazzi del campus, i ragazzi della Quintana e grazie ancora di averci chiamato. Ciao a tutti. Ciao, sono con Fabrizio Bocca. Ciao a tutti, sono Fabrizio Bocca della Scuola Motonautica Federale di Casale Monferrato. Oggi giornata fantastica nonostante il caldo con gli amici dell'Associazione Quintana che hanno organizzato un evento incredibile con un sacco di ragazzi e abbiamo avuto la possibilità e l'opportunità di far provare le emozioni, di navigare sul fiume Poco le nostre imbarcazioni da competizione. Da competizione per i ragazzi. La nostra è un'attività dedicata ai giovani, all'attività giovanile. Io sono istruttore federale, nazionale e la nostra scuola di Casale Monferrato è specializzata in questo tipo di attività. E' stato molto bello, siamo contenti di aver fatto provare le nostre imbarcazioni dei ragazzi per la prima volta e mi sembra che tutti siano molto felici, soddisfatti e ci auguriamo di ripetere questa manifestazione e di avere ancora un'altra opportunità del genere e speriamo di essere stati utili e di aver fatto divertire voi tutti. Ciao. Sono con Giovanni e Pietro che oggi hanno imparato come guidare un gommone. Oggi infatti siamo andati a Po, o all'imbarcadero qui a Casale vicino alla Cannottieri e ci hanno fatto provare un gommone che era molto semplice da guidare. C'era solamente l'acceleratore e il volante e noi abbiamo potuto fare dei giri insieme a un istruttore che ci ha insegnato come muoverci. Sì, si andava abbastanza veloce e l'ispettore stava alla leva della velocità e noi invece stavamo al volante e dovevamo scegliere bene la direzione dove andare.